I sport invernali, dal Bob allo sci e al concorso femminile di Grindelwald, Carla Marchelli, che aveva già dominato nel 57, si afferma nella gara di discesa libera e grazie al secondo posto ottenuto nello slalom gigante si piazza terza nella classifica della combinata alpina. Assieme alla Marchelli, il 58 vede primeggiare in Italia e comportarsi assai bene anche in campo internazionale altre due giovani sciatrici. Grazie.